che Corradino, mi è piaciuto tantissimo perché qui parlava del sogno, il fatto che sognare per noi è molto importante perché il sogno ci porta lontano e poi ci dà delle vibrazioni particolari, anche sognare significa anche progettare, noi dobbiamo sempre progettare nella vita, al limite progettiamo 10, riusciamo poco a farlo, però il sogno ci porta lontano e ci aiuta a vivere meglio, sogniamo, quando si dice sogniamo. Riguardo a Bruno Cini, quante persone a come sogna, la cosa bella è che quando il sogno individuale localizza tante personalità artistiche, quella è la cosa ancora più bella? Sono perfettamente d'accordo, tutti quanti noi abbiamo questo dovere di sognare, è importante e mi piaciuto molto anche se per la prima volta l'ho sentito, l'ho visto, cioè Benito è una persona straordinaria, quindi proprio fantastico E anche molto semplice, umile, mi sono piaciuto, sì Bene, non vuole sentire le persone